Dal mio punto di vista tu eri l'eleganza, il buonsenso, la pazienza, la pazienza che ce ne vuole tanta, non dirlo a me. Quanto siete belli, ciao, davvero complimenti a te, mi sei piaciuto tanto, ce lo siamo anche scritto, un uomo di grande buonsenso, di grande profondità, è la mia forza. E ci credo che la tua forza. Anche io un po', però mi fa tanto. Però sai, questo equilibrio è così, un po', lasciamelo dire, antico ma moderno, perché è quello che tiene in piedi le nostre vite, è bello quando lo ritrovi così. Grazie, grazie a voi, grazie a lei, tutto quello che vuoi. No, devo fare un ringraziamento speciale al mio amico, agente Alessandro Lucascio, che mi ha accompagnato qui. Certo, che salutiamo da lassù dove si trova, c'è Cristina qua. Ah, Cristina, bene. Cristina è qua, quindi.